infine ci siamo arrivati il 2 dicembre inizierà la conferenza sul clima cop 25 a madrid dopo lo spostamento dal cile che come sappiamo ha costretto anche la testimonial greta a un precipitoso cambio di programma insomma cercando di trovare mezzi poco inquinanti a parte questi aspetti diciamo così pittoreschi della della situazione siamo alla conferenza nella quale ancora una volta si dovranno prendere delle decisioni per contrastare il riscaldamento globale bene in questo in questo discorso si inserisce come sappiamo negli ultimi mesi quell'iniziativa prima dei 100 scienziati italiani a cui rispondevano poi 200 diventati poi 500 scienziati mondiali a cui per soltanto per non sbagliarsi rispondevano 11.000 è una specie di gara insomma chi è di più ultimamente poi arriva anche un ritocchino a quel consenso che è il 97 per cento dichiarato contro un 3 per cento di scettici che poi insomma è sembrato essere troppo anche quello per cui è diventato del 100 per cento quindi vedete nessuno ha più dubbi sulla sulla teoria che poi insomma non si spiega che non è solamente sul cambiamento globale ma sulla causa umana del cambiamento del clima bene e questa questa faccenda ha sollevato chiaramente come è prevedibile una serie di di polemiche se una per tutte che le riassume il climatologo luca mercalli che sul sulla tv la 7 a un certo punto interpellato al riguardo un po molto seccato risponde che no la scienza non funziona così per cui se uno è specializzato in un campo non può proprio mettere bocca in qualcosa magari di affine e porta un esempio assolutamente un po un po triviale anche se in maniera adotta e per cui dice se uno ha un problema di cuore chiaramente un proctologo e non è il medico indicato a rispondere beh però sarebbe veramente strano paradossale che un medico anche di una specializzazione diversa non fosse in grado di capire se un collega sta dicendo delle cose fuori fuori insomma della della buona medicina mi preoccuperebbe un mondo così ecco dove solo lo specialista può capire quello che sta dicendo un altro collega e tagliato fuori da qualsiasi commento però è questo quello che vogliono far passare bene è proprio la e per il meccanismo scientifico del consenso scientifico a questo punto che è entrato in una crisi che non può più essere ignorata questa storia del consenso è in realtà il sintomo di un malessere praticamente il meccanismo delle peer review quello per cui un lavoro viene visionato sempre fra pari che poi significa sempre gli stessi nomi e crea delle dei meccanismi autoreferenziali delle gigantesche con chambers mondiali in cui non si esce fuori da dalle stesse cose bene questo meccanismo ovviamente una fase patologica una fase patologica e allora ecco perché io propongo l'idea di una extended peer review vado a spiegare di cosa si tratta bene l'idea nasce in realtà da una teoria di due autori e funtovic rarez che sostengono che su argomenti o controversi o attenzione dove ci siano dei forti interessi in gioco bene il perere scientifico dovrebbe essere esteso ad autori non non della stessa materia ma anche a diciamo persone di altri campi del sapere che possano in qualche modo integrare il lavoro fatto dagli specialisti perché questi da soli non bastano più ad affrontare questo tipo di situazione perché è una scienza post normale a confronto alla scienza straordinaria che Thomas Kahn diciamo ipotizzava per gli argomenti sui quali a un certo punto la scienza normale non riusciva più a dare delle risposte bene in questo caso la scienza post normale appunto ha un allargamento di intervento anche a autori non soltamente del campo quando appunto si verificano certe condizioni bene io propongo un altro meccanismo questo della che sottolineo anche con questa scritta della extended peer review bene mentre funtovic rarez dicono appunto che in caso di problemi o di grandi interessi bisogna estendere diciamo la consultazione ad altri ad altri insomma scienziati fuori dal campo io vado oltre dico ogni volta che degli autori fuori dal campo specifico ma comunque persone di scienza che i meccanismi scientifici riconoscono bene incominciano in un numero non trascurabile a sollevare obiezioni su quello che sta facendo la comunità di un certo campo bene questo fatto lungi da essere come dicono punti vari luca mercalli un fatto un ingerenza indebita e da ignorare diventa un allarme che non può essere ignorato perché se un certo numero di scienziati di materie affini in questo caso parliamo clima ma scienze della terra fisici va bene dicono che qualcosa in quegli studi non va bene questo messaggio è proprio anzi secondo il metodo appunto che sostengo della extended peer review un campanello d'allarme che non può e non deve essere ignorato perché è appunto come mi conosciamo la febbre bene quella febbre il sintomo di una malattia la febbre data da un certo numero di scienziati che intervengono e dicono qua nella scienza del clima qualcosa non va esattamente come avere la febbre alta e quindi non possiamo dire sì c'è la febbre alta ma facciamo finta di niente perché la febbre non c'entra nulla col problema ecco quindi alla vigilia della cop 25 va preso in considerazione il fatto che proprio questi fenomeni emersi recentemente di una comunità scientifica esterna ai climatologi che ma sappiamo c'è anche climatologi all'interno in realtà questo consenso fa solo il 100 per cento ma prendendo in considerazione quelli esterni fisici geologi e così via che dicono che qualcosa non va è un allarme che non può e non deve essere ignorato perché sintomo di una patologia scientifica che sta bloccando la ricerca su questo argomento e creando appunto delle ecocciambre dalle quali non se ne viene fuori con un danno diciamo per la scienza ma la scienza poi siamo noi con le nostre attività le nostre conoscenze i nostri interessi per cui ecco concluderei con questo con questo messaggio ci avviamo una cop 25 viziata da una scienza che è un ecocciambre gigantesca per questo non solo il clima ma per ogni ambito scientifico dovremmo aprire a un concetto di extended peer review dove se dall'esterno un certo numero di autori segnala che qualcosa non va bene questo deve diventare un fatto che deve assolutamente essere preso in considerazione negli interessi di tutti